Buongiorno a tutti Nel video precedente ci siamo dimenticati di aggiornarli e li ho aggiornati io Ragazzi andiamo a fare la prima partita con Eevee Se vinciamo 15 battaglie con lui ci regalano 1000 punti 15 battaglie diciamo che quando hai un brawler nuovo diciamo che vinci le prime le vinci quasi tutte Adesso dobbiamo vedere però se è così Quindi eccolo qui Eevee non so come spari Incredibile Mamma mia ragazzi ha un lancio Lunghissimo Tipo qua c'è rosa Ecco riesco a prendere 8 bit che è dall'altra parte Ci vuole il tizio La super dovrebbe lanciare una pallina Poi la proviamo Adesso che rimangono tante squadre magari no Dopo alla fine No vabbè ma Eevee ragazzi è veramente incredibile come brawler Sì lancia una pallina Tipo come Tic no E' tipo un alieno Eevee eccolo qua E' tipo una sua navicella spaziale Che è In cerca di conquistare il mondo Vediamo una cassa in quanto la spacca A parte che abbiamo l'aiuto anche Del cane qua Non mi viene in mente Ringhio Come cavolo Comunque fa veramente tanto danno Aia Cioè guardate Proviamo a lanciarla Non è che lancia Ma è tipo un mortaio Aia Aiaiaiaiaiaia Ok Mamma mia È ben rischiata però Non è valso la pena Andiamo a vedere che dovrebbe Stanno scappando infatti Fanno bene a scappare Però Attenzione Ok Eh c'è la super Infatti l'ho utilizzata anche però troppo tardi E' così che c'è stato troppo in fretta Continua E ho fatto Ah vabbè Guardate Cassa Brawl E via Ah 10 punti Boh vabbè Li diamo a Eevee Così Non riusciamo ad aggiornarlo Però quasi Adesso lo riusciamo ad aggiornare Adesso lo aggiorniamo A livello 6 Pian'idea Prossimo video ragazzi Ricordatevi che c'è Il signor Ash Ce l'ho a 0 Non l'ho ancora utilizzato Andiamo 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 Eccoci qua Allora Speriamo che ci siano Mari 2k Eccolo qua Ma se ci sono Ci sono Ci sono Ci sono Ok Diciamo che questo brawler Questo qua Che abbiamo come amico Non è tanto forte Almeno per me Aspetta È nita Bombardino un po' pericoloso Aspetta che si picchiano Eccoli qua Approfittiamo E lanciamo Sto Robo in mezzo Non ho ancora capito Come funziona Un mortaio Cos'è Quanti punti Raccogliamoli ragazzi Oddio Vai vai Andiamo che vinciamo Che simpatico Evie Mi sta simpatico Andiamo a cercarli Eccoli Belli Che vi va Vai Fatevi vedere di più Che furbo Che sei Ems Cioè Non lo so Ti vedo E lei Eh Se io non lo vedo Lui non mi vede Siamo quasi a livello 91 Ragazzi Wow Già Quattro minuti Di video Guarda Passano in fretta Salve signor gatto Non posso Non posso accarezzarlo Non posso accarezzarlo Signor gatto Aiuto C'è Tic E tutti i lanciatori Tutti i lanciatori Ma peccato che da vicino Faccia lo schifo Questa è la pecca Dei lanciatori Però non andare Lì sei tre di vita Vediamo Di sbrigarcela Comunque Squadre rimaste For Squadre rimaste Tre Vai Finché Deve morire un'altra squadra Magari non noi Come squadra Picchiatevi per favore Sì ma non Così Non dovete fare male al grano Dovete Picchiare i vostri avversari Non so se Vai che ne è morto uno Deve morire anche un altro Magari non Della squadra Non dell'altra squadra Magari della stessa Così Salve 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 Lei stia buono E non mi rompa Va bene Oddio Alla carica Vabbè questo qua è esploso Basta Arrivederci Eccolo qua Vabbè emz Ma sempre le emz manca Poi le emz sono sempre furbe Sono sempre più furbe le emz Ecco qua Ivi Avevo già vinto ragazzi Quattro battaglie Ce ne mancano altre undici E abbiamo mille punti Quindi vuol dire Sei dodici Non so quanti punti adesso Se sono cinquecento Seicento Perché Andando Ma andando avanti Sono sempre di più Inizia ad essere di più Tipo ai cinquanta Al cinquanta Al livello di cinquanta Troppo bello sto brawler Comunque Allora c'è un tic Perché ho visto i suoi colpi Eccolo Ci viene addosso Secondo me era un po' bot questo Ciao stecca Arrivederci Mi sta un piacere E' vero abbiamo anche la nuova skin Di stecca ragazzi E' molto molto bella Vai picchiatevi Rosa Vieni qui Scontro finale Dove sono nascosti gli altri? Perché penso che siano nascosti bene Anche perché C'hanno la caga Lo scopriamo Che hanno venti punti loro Il problema è Dove stanno? Li abbiamo trovati forse Vero? Si 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 Li abbiamo trovati Ma dove stai andando Bull Ma vai a fare il Bull Dall'altra parte Poi Bull Poi Bull Significa che è abetoro Ragazzi E' anche perché tendo a fare i video Ragazzi di 8 minuti E' anche perché Dopo diventano Troppo lunghi i video Infatti già il video precedente Di Brawl Era già Troppo Che è 11 minuti Poi passiamo ai 12 A un quarto d'ora Il video interessante Sarebbe di 8 E che tra una partita e l'altra Ragazzi ne finiamo magari A 6 minuti E ne dura 2 minuti La partita Dura 8 Allora ci hanno fatto male Infatti continuano A provare Ad ucciderci Però noi Visto che abbiamo Un raggio potente Proviamo A fargli danno Così Proviamo a Buttarli indietro Ma non indrittereggiano Un piffero Allora Dov'è il mio amico? Non so se staro cogliendo Le carote Ma basta Ma non vedete che siete morti? Ma non lo so Sì Convinto Ci vediamo dopo Sicuramente dopo Ci viene a rompere Aiuto Stavo guardando la webcam Però meglio non guardare La webcam Ma aiuto E vai Rush Ce l'avremo noi Prossimo video Ce l'avremo E lo proveremo E mannaggia Se schiattate un giorno Potrebbe essere interessante Però ragazzi Non ti incontro di me però Capite che vi piace Eevee però Sono stato un deficiente Eh sì Perché sono andato Dentro Alla Tempesta Vabbè Comunque Ci stiamo facendo Un botto di trofei Un botto anche di Seicento Quindi Seicento Seicento Mille Sei dodici Mille due Se facciamo il livello E tre quarti E ci avremo anche Le macchie a cassa Quindi niente ragazzi Direi che questo brawler È promosso Molto forte Eevee Bello Ce l'abbiamo già Noi ci vediamo In un altro video Ragazzi Con il brawler Ash Eccolo qui Lo vedremo In un altro video Ciao a tutti ragazzi Grazie per la visione Se questo video Vi è piaciuto Lasciate un bel like Iscrivetevi Attivando la campanellina Commentate E niente Ciao a tutti ragazzi Noi ci vediamo In un prossimo video Ciao Ciao